Italo, puoi anche far finta che non sia successo niente, che sia una giornata normale. Ma se non mi riporti subito mia figlia e mio figlio, perché Matteo l'ho cresciuto, io e i figli non sono di chi li mette al mondo, ma di chi li amo. Guardami, se tu non me li riporti subito, a casa non ci metti più piede.